Il sangue è un tessuto connettivo che è composto da cellule specializzate inserite all'interno di una matrice extracellulare, che a differenza di quella presente negli altri tessuti connettivi è liquida e prende il nome di plasma. Se prelevassimo del sangue da un braccio e dopo averlo inserito in una provetta lo sottoponissimo a centrifugazione, vedremo che nella provetta si verranno a formare due fasi, una più leggera contenente il plasma e un'altra più pesante contenente la parte corpuscolata del sangue. Il plasma è composto per lo più di acqua in cui sono disciolte varie sostanze come sali o proteine plasmatiche come l'albumina, il fibrinogeno e gli anticorpi. La porzione corpuscolare del sangue invece è una sostanza che ci appare rossa perché è composta per la maggior parte da globuli rossi. Pensate che nel nostro sangue sono presenti dai 4 ai 6 milioni di globuli rossi per microlitro di sangue. Troviamo anche dai 5.000 ai 10.000 globuli bianchi per microlitro di sangue 250.000-400.000 piastrine. I globuli rossi, chiamati anche eritrociti, sono delle cellule a forma di disco biconcavo che sono deputate a trasporto dell'ossigeno nel sangue. La loro forma si è evoluta in modo da consentirgli un trasporto copioso di ossigeno. Inoltre, la loro struttura non è rigida ma flessibile, in quanto gli permette di passare anche attraverso i capillari più stretti. Essi sono in grado di svolgere questa funzione grazie a una proteina detta emoglobina. L'emoglobina è una proteina molto complessa di struttura quaternaria che contiene al proprio interno un gruppo prostetico chiamato porfirina, che contiene ferro, il quale può legare l'ossigeno e cederlo ai tessuti in base al suo stato di ossidazione. Per ottimizzare il trasporto di ossigeno nel sangue, i globuli rossi perdono il nucleo, l'apparato di Golgi, il reticolo endoplasmatico e i mitocondri. La vita media di un globulo rosso è di circa 120 giorni e quando essi invecchiano perdono di flessibilità e diventano più fragili. I globuli rossi sono generati a partire da cellule staminali presenti nel midollo osseo, grazie all'azione di un fattore di crescita chiamato eritropoietina, che viene rilasciato da alcune cellule presenti nei reni in presenza di possia, ossia quando i livelli di ossigeno nel sangue sono molto bassi. I globuli bianchi, o leucociti, invece, rappresentano le sentinelle del nostro corpo. Con questo termine, in realtà, però, andiamo a raggruppare un gruppo di cellule molto eterogeneo, che è responsabile di diverse funzioni specializzate. Anche essi vengono prodotti dal midollo osseo. Il midollo osseo produce anche delle cellule dette megacariociti, che rilasciano frammenti cellulari chiamati piastrine, i quali giocano un ruolo molto importante per la coagulazione del sangue. Infatti, il compito delle piastrine è quello di, in presenza di una ferita, addensarsi lì dove è presente il danno e formare un tappo che va a limitare non solo la perdita di sangue, ma anche l'ingresso da parte di agenti patogeni. La coagulazione, però, avviene anche grazie a delle proteine presenti nel plasma, come per esempio il fibrinogeno, che vi ho già inattiva ed è attivato solo in presenza di un danno tessutale per dare luogo alla cascata della coagulazione. Quindi, da questa breve descrizione della sua composizione, possiamo ben capire quali siano le funzioni del sangue. Principalmente, il sangue è adibito al trasporto di nutrienti. Inoltre, il sangue è anche responsabile del trasporto delle sostanze di scarto, che saranno poi eliminate tramite l'apparato escretore. Questo tessuto è anche molto importante per regolare la temperatura corporea, che deve sempre aggirarsi intorno ai 37 gradi. Altra funzione molto importante del sangue è la regolazione dell'equilibrio idrico e del pH. Infatti, per il sangue questo valore di pH si aggira intorno ai 7.2-7.4, quindi fondamentalmente possiamo dire che è neutro. Squilibri anche minimi di questo valore possono avere delle gravi ripercussioni su tutto l'organismo e portare addirittura alla morte. Il sangue, inoltre, abbiamo detto che ha anche funzioni di difesa, perché al suo interno sono presenti sia i globuli bianchi che gli anticorpi e al suo interno sono presenti anche proteine e frammenti cellulari essenziali per la coagulazione.